Etra crede nel lavoro dei giovani, dell'università, della collaborazione con l'università come fonte di idee, come fonte di sperimentazione, come fonte di innovazione nell'ambito dell'attività propria dell'azienda. Etra ha tutto l'interesse, e questo è il motivo del premio, a individuare quali tra tutte queste tesi possono dare del valore aggiunto ad Etra e ovviamente nel corso degli anni, nel corso del tempo comunque, nel corso della fattibilità operativa, individuare quali siano o possano essere le forme per tradurre in pratica queste idee. Le idee, qui si riferisce Enzo Carraro del Consiglio di Gestione Etra, sono quelle dei giovani premiati a Cittadella durante la cerimonia conclusiva del concorso per tesi di laurea magistrale, dottorato sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile, promosso proprio dalla Multi Utility. Sono Cittadella quindi è stata consegnata la borsa di studio a una neodottoressa che ha illustrato il suo lavoro legato alla lotta all'inquinamento. L'innovazione è data dal fatto che io ho pensato un processo di denitrificazione autotrofa via nitrito, che invece convenzionalmente, in letteratura ci sono dei lavori che la attuano via nitrato e quindi il vantaggio è nelle ore in cui dovrebbero funzionare gli areatori. Se si ossida solamente fino a nitrito, gli areatori funzionano meno e quindi ho un vantaggio economico. Oltre al primo premio, anche una menzione speciale per una tesi relativa a due microorganismi patogeni che potrebbero essere presenti nell'acqua. Mi sono occupata degli aspetti della qualità microbiologica delle acque nei vari livelli del ciclo idrico integrato, che quindi va dal punto di captazione dell'acqua potabile, lungo tutta la rete di distribuzione acquedottistica, fino a poi all'impianto di trattamento del reflo che viene allontanato dalle aree urbane.